Benvenuti nel video più disturbante della storia, lei in canottiera e io in felpa invernale E ci sono 50 gradi Da guardare deve essere terribile Tu sei abituato al caldo italiano Sono abituato al caldo italiano e mi piaceva che questa felpa l'ho portata apposta per il video e lo non ho mai Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi sono qua con Andrea Blackjik Ciao a tutti Benvenuto e come vi ho detto su Instagram, lui è in Olanda Sono in Olanda, siamo in Olanda Siamo in Olanda ed è in Olanda Sai che molti mi hanno scritto, ma sei con Nicole oppure Nicole ti ha lasciato la casa? Veramente? Cioè pensavo che io me ne fossi andata E i topi ballano Lui è Neil Io è Neil che siamo, occupiamo questa casa abusivamente Esatto, tra un po' mi cacciano di casa e loro a me Ottima idea Allora ragazzi, vi abbiamo chiesto su Instagram di farci delle domande Quello che volevano Quello che volevano Senza E ce ne sono arrivate tantissime Abbiamo sciolto le più originali Ecco Neil è lì con voi? Precisamente adesso in questo momento no No, in questo momento no perché è andato al supermercato a prendere le cose per il barbecue stasera Che abbiamo fatto anche ieri Sì Però rifacciamo molto volentieri In Olanda questo si fa quando fa caldo e c'è boh bel tempo Bisogna prendere bel tempo, non proprio Però si fa il barbecue Quando fa caldo ci si soffoca col caldo del barbecue Ecco E con la felpa E con la farfalla In realtà volevo far fare le domande a Neil per questo video Però appunto le abbiamo mandato al supermercato Possiamo inserirlo come voce fuori cani Ecco A che età il primo bacio? Allora Io 15 anni 14 anni Veramente l'ho dato prima di te Non ci posso credere Perché non ci puoi credere? Cosa sono io? Non ho capito Perché io ero molto timido Molto introverso Molto Io di più Fidati Comunque io ho 14 anni Ecco Io ho 15 Cioè se consideriamo bacio a stampo Asilo Davvero? Sì Allora la mia amichetta con cui scopriamo le cose da grandi Cioè già in asilo? Beh ma va a stampo Sì sì ok Però No io invece niente 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 Proprio fino ai 15 Cioè neanche a stampo niente Incredibile Lo so Vabbè che quando tu avevi 15 anni io ne avevo Tu dovevi Non ero nemmeno nato Non ero Non eri nato Come mai Allora questa è gettonatissima Cioè Come mai Andrè è tornato di nuovo in Olanda? Boh perché mi trovavo benissimo qua Il paese mi piace tantissimo L'altra volta sei stato pochissimo L'altra volta sei stato pochissimo In realtà sono stato pochissimo anche questa volta Perché domani riparto non mi sembra vero Cioè sono già testissimo È vero volano Però l'Olanda mi dà delle ottime vibes Nicole e Neil sono fantastici Cioè mi hanno detto Se vuoi ritorna e ti ospitiamo senza problemi Io volevo È bello che lui dice ti ospitiamo No Nicole e Neil Allora questa è casa mia Loro tutto il tempo Sì no Casa di Nicole e Neil E io no Veramente ragazzi Cioè Ma Neil mi ha detto che dovevo pagargli l'affitto di questa casa Ah bella questa Capito? Cioè Neil viene qua E si fa pure i suoi affari No stiamo scherzando Perché ci stesse credendo Però no Beh l'ultima volta quando sei venuto Però poi dovevi comunque ritornare anche tu Perché avevi delle Cioè dovevi andare poi Spoiler Io poi ritornerò anche a settembre e a ottobre Per due motivi diversi Però sarò molto più presente in Olanda Da questo periodo in poi E io sono molto contenta di ciò Meglio un amore corto ma profondo Oppure lungo ma superficiale Io la prima Ovvio Perché Beh anch'io Cioè un amore superficiale a priori non mi interessa Nel senso che sia corto o lungo ma piuttosto niente Sì ma mi piace come si sia risposta da sola Anch'io Sì 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 lei poi ha scritto io la prima ovvio Ecco Cioè superficiale non è amore Non va mai bene che sia corto che sia lungo Io sto morendo Io non so come può Io sento proprio le rapide scorre per il mio viso Ciao Nicole per me sei come una sorella virtuale Vi chiedo qual è la serie tv che avete amato di più? Io sono indecisa tra due Anch'io sono indecisa tra due No oddio tra tre No vabbè Vabbè la terza misa che l'ho capita Io non ti so dire se Breaking Bad Sai che è una delle mie tre è proprio Breaking Bad Oppure Prison Break Io non l'ho visto Prison Break Però Neil si è visto tutte le stagioni Ma infatti Neil è uno da Prison Break Neil è uno da Prison Break Cioè io la guardavo con lui all'inizio Ma poi Boh però dai c'è anche la storia d'amore tra i due Che è molto Eh non ci sono arrivata Una, due punti Vabbè allora cosa hai visto? Niente Però no a me è anche Breaking Bad Tantissimo Fenomenale Però per quanto riguarda fantasmi, spiriti Che se anche a te piacciono Haunted Hill House Ah pensavo American Horror Story Anche Anche Ma non tutte le stagioni Ma l'hai vista Haunted Hill House? No Stasera la guardia Cioè stasera iniziamo Ho trovato cosa fare queste sere durante tutto il volo di domani No assolutamente Tu impazzisci Se ti piacciono i fantasmi, gli spiriti Un sacco Impazzisci E la più bella serie tv per quanto riguarda l'horror E appunto queste cose qui del paranormale Ma è horror o thriller? Horror Cioè proprio fantasmi Cioè fa proprio paura Io ho ancora in mente una scena che mi terrorizza Poi Nicole si guarda tutti gli horror del mondo Le piace Però poi vede un ragno ed è persa È completamente persa Io sono arachnofobica Una roba allucinante No Ma non l'avevo capito Io ho proprio paura Sono tipo Andrea vieni Fa proprio una specie di richiamo Di verso che tira fuori solo quando vede un ragno E lì io e Neil capiamo che dobbiamo scattare Solo che anche Neil c'ha paura È vero Quindi sei l'unico capace di salvarmi Per Andrea Sono più impegnativi i tuoi video o quelli di Nicole? Piccola parentesi È bellissimo perché i miei followers sanno che io non ci capisco niente Quindi non sarei in grado di dirlo Invece lui sì Boh Sicuramente da un punto di vista di editing I miei Io però non riuscirai Ne stavamo parlando prima A fare daily vlog Cioè una cosa che proprio io non riesco a fare Ma non perché non lo sappia fare Ma perché proprio non ho la voglia di Ah ecco Integrare ad ogni momento della mia vita Il fatto di avere una 5 kg di fotocamera in mano 5 kg E quindi Sicuramente ognuno nasce per fare quello che sa fare A me piace di più editare il video Starmene a montarlo quando ho già registrato Vabbè tu sei bravo Io a malabena riesco Invece loro registrano un sacco sul campo E poi fanno molto meno editing È vero Ah per Andrea e poi c'è quella partita C'era Mi ecclisso Mi ecclisso Per Nicole Sei contenta che Neil e Andrea vadano d'accordo? Sì Sono molto contenta di ciò Veramente Neil Cioè io e lui siamo stati separati alla nascita È vero 20 anni dopo Però notare che Neil ha 37 anni E dello Cioè E lui 19 Sono uguali Cioè quindi è vero che gli uomini Ragazzi sono Cioè Voi rimanete 19 anni per sempre Penso di aver sentito più volte Nicole in questi tre giorni dire Che stupidi Che qualsiasi altra tua parola Il mudo di questa vacanza È Nicole che dice A me e a Neil Che stupidi Oppure che grida per i ragni Oppure che grida per i ragni O uno o l'altro Poi Ciao Nicole Ti trasferiresti in un altro paese per amore? Questo è solo per me No facciamo la del trame Tu ti trasferiresti in un altro paese per amore? Hai toccato un punto molto dolente Cioè non per niente altro Solo per amore Cioè deve essere proprio l'amore della mia vita Se no no Giusto Sono d'accordo Io l'ho fatto in realtà Io mi sono trasferita per amore Quando abitavo in Olanda In Italia E Vabbè Eh ma l'Italia è la tua madre Hai fatto un po' il contrario Cioè sì però Sei ritornata alle origini per amore Esatto Esatto E poi non è andata bene Sono di nuovo Poi Stendiamo un velo pietoso Poi Avreste mai pensato di arrivare dove siete? Di riuscire a fare del web il vostro lavoro? Ma mai nella vita Ma cioè All'inizio mai Dopo quando ho cominciato a rendermene conto Per la prima volta Ho capito che Poteva succedere Tu quando hai iniziato Già sapevi che sarebbe potuto diventare potenzialmente un lavoro Oppure quando hai iniziato tu comunque non Assolutamente no Io i primi sette mesi ero fermo a 100 iscritti Invece lei mi ha detto che già i primi mesi veniva guardata Io non lo so Cioè i primi video mi hanno fatto tipo subito 20-30 mila visualizzazioni Ieri stavamo parlando un po' degli albori no? Io le dico beh saprai no? Un po' come tutti i primi video non te li guarda nessuno No ma sembra che io sia No parla per te a me li ho sempre guardati da subito Io ah ok scusami Ma perché eravamo in poche Eravamo in poche nella beauty community no? Allora tipo quando ho iniziato a fare video io ce n'erano talmente poche che comunque chi cercava trucco occhi azzurri eh comunque ti trovavano quindi per me secondo me era più facile perché c'era meno gente quando ho iniziato io Non che ci fosse molta gente che faceva tech però io volevo chiudere il canale dopo sette mesi perché avevo pochi risultati Ma ti rendi qua? Però questo può spronare tutti quelli che hanno un canale Io infatti lo dico sempre Che non riesce che voi magari pensate che non riesca a fare successo invece bisogna perseverare perché poi alla fine ne vale la pena ragazzi Il tempo ripaga Chi semina vento? Così tempesta Non c'entra niente Non c'entra niente Ci sta così Non puoi dire di no cioè Perché? 30.000 visual ai primi video E ma guarda che quando ho iniziato io cioè non si sapeva neanche cosa fosse la partnership cioè io non sapevo neanche di poterci guadagnare quando io ho iniziato o quando ho aperto il canale non ero cioè non sapevo che avrei potuto collaborare con i brand guadagnandoci Però la partner l'aspettavo Cioè il primo giorno Io sapevo però cioè sapevo della partnership ma pensavo che avrei guadagnato tipo 20 euro Sì che poi contestualizziamo ai tempi la partnership era una specie di leggenda cioè non era come oggi che tutti cioè erano proprio pochi eletti che venivano scelti, selezionati e portati in questo limbo lavorativo No era veramente così No è vero Che tu ai tempi avevi proprio un canale diverso potevi mettere il banner tu ricordi i tempi del banner che solo i partner avevano il banner più grosso rispetto agli altri No ragazzi quando ho messo il banner mi sono sentita tipo wow Io mi sono sentito molto più maschio rispetto a prima Domanda per Andrea io non c'entro qua Andrea quella ragazza di Pisa è la tua fidanzata? No è una mia cara amica che ho conosciuto due anni fa e voglio un sacco di bene ma se guarderai meglio ha già il ragazzo Poi ad Andrea piace Amsterdam? Si trasferirebbe all'estero o ama troppo Milano? Questo è bella io so che ti piace tanto Ciao mamma che guarderai questo video Non lo lasciamo più tornare a casa adesso Andrea resta qua No devo dire che Amsterdam ma in generale i Paesi Bassi sono veramente i primi che mi hanno dato un vibes da casa Cioè sono stato in tantissimi posti in cui starei per anni però sempre vedendolo come vacanza da Milano Questo è pericoloso perché io ho avuto la stessa sensazione che c'è sette anni e poi mi sono trasferita qua proprio per questo Mi sa che inventeranno la sindrome di Alkmar e io sarò il primo caso Però sì cioè per ora ci se mi proponessero ci vivi per un bel po' io direi solo sì va bene Guarda questa casa mia come puoi vedere ormai è un albergo Ma infatti albergo Nicole vi metterò la recensione su TripAdvisor Ecco lui già lo sa che può tornare quando vuole Tu e Black Green? Eh ad Amsterdam ci ha visto lungo Black Green vista Black Geek vi state frequentando? Sì con Neil a fianco no? Esatto Cioè io non solo gli prendo la casa a Neil perché questa casa quanto pare è di Neil E questo l'avevo già capito ormai Ma in più con Neil a fianco la frequento pure non metti come la sto frequentando E a me chiedono Nicole non è che ti sei invaghita di Andrea? Questa purtroppo è una pecca dei miei follower ragazzi ve lo devo dire Voi avete tanti pregi e io vi amo perché siete la mia family però avete un difetto Quando vi vedete con un esemplare di sesso maschile è automaticamente che io mi sono invaghita di lui Quindi purtroppo ragazzi questa cosa qua non è sempre così Avete un solo difetto dovete prendere una scodella e farvi una scodellata di cazzo Fate una mini pubblicità scambiandovi Andrea presenta un mascara tu un cavo USB Penso che potrebbe uscire il più grande disastro sulla faccia della terra Il mascara è quello che ricopre tipo le imperfezioni Nooo Quello del correttore Il mascara è quello che metti sulle cegna Ah è vero è quello degli occhi Ecco se tu mi dessi un mascara io me lo metterai qua Adesso te lo do e fai la pubblicità E allora Questo è il cavo USB migliore del mondo ragazzi perché ha una porta Ha due porte A due porte Non lo so che attacco è Come no? Non lo so USB? No no USB questo USB? USB C USB C Sapevo manco che esistesse E c'era attaccata questa cosa che non ho la minima idea di che cosa sia Quindi compratelo Quello era un SSD USB C Perfetto sono d'accordo Ma te lo sto rompendo o posso tirare? No no puoi aprirlo Ah ecco sai che questo Io ho fatto un video mai pubblicato Perché non era pubblicabile Di una ragazza che mi truccava Perché non era pubblicato? Per vari motivi Ok Non indaghiamo ragazzi Ehm Il problema è che questo mi è rimasto tipo per tre giorni Andavo in giro con gli occhi tutti Ma dovevi struccarti? Non mi si struccava Non mi si toglieva E infatti tutti che dicono Ma hai visto il trucco agli occhi? Dico eh sai un video Comunque no bello bello Molto di qualità Ok ragazzi Questo è quanto per il video di oggi Ringrazio ancora tantissimo Andrea Che è stato mio ospite Grazie a voi che mi avete dato casa Cibo Alloggio Vita Di nuovo con questo voi Cioè ma Ragazzi ormai Ormai veramente Ormai si Quindi però andate a vedere il canale di Andrea Perché gliel'hanno riaperto per fortuna Finalmente Poi in teoria domani c'è anche un video se vogliamo Cioè domani domani però non so Ah no questo video andrà online Vabbè speriamo 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 che domani sul mio canale uscirà un video Perché vuol dire che sarà ancora attivo e funzionante Comunque io vi linko il suo canale qua sotto in box informazioni Grazie cara E questo è quanto mia family Noi ci vediamo domani con un nuovo video 17.30 Bacio grande Bacio piccolo Ciao Ciao